Allora, Flavio Pinto, 49 anni, primestrino, attivista da un bel po' direi, candidato sindaco e può essere direttamente a casa tua. Allora, c'è questa bellissima iniziativa che ti permette di invitare la persona che potresti eleggere direttamente a casa, gli puoi fare tutte le domande che vuoi e io direi che è una gran bella dimostrazione della partecipazione del Movimento 5 Stelle. Grazie Grazie Grazie